I subacquei di Tornara hanno un compito importante sia nella posa della trappola, quando viene installata tutta la trappola, che vuol dire le catene, le ancore, le reti, le boe, insomma tutto l'ancoraggio, la parte di svolgimento subacqueo è importante, ma poi ha una funzione fondamentale che è quella di controllo quotidiano dello stato della trappola. Poi il subacqueo ha un'altra funzione fondamentale, ed è quella che ho seguito più di una volta, che è quella della selezione, cioè attraverso tecniche anche lì molto particolari, il subacqueo cerca di dividere i tonni che sono nella camera grande, che sono appena entrati nella Tornara e separarli in base alla loro taglia, alla loro stazza, cercando di mandare nella camera successiva, quindi aprendo e chiudendo una rete che si chiama La Porta, i pesci che sono di più interesse commerciale, più grande interesse commerciale. L'attività subacquea è in tutte le fasi importantissima, cruciale, tanto che il RAIS, che è il capo indiscusso, il governatore, re delle attività intornare, ha sicuramente autorità anche sul subacqueo, però lo sente un po' come un suo pari, perché rappresenta i suoi occhi e il suo agire sotto l'acqua. Grazie. Grazie. Grazie.